siete pronti a fare un gioco oggi ragazzi mi sento un po tipo sovlenigmista ok mi rendo conto che questo è un video che mi potrà rendere abbastanza antipatico immagino gli eter sotto no non è vero sei un ciarlatano eccetera eccetera però io ci tengo a farlo ci tengo a farlo perché questo ragazzi è un mercato che veramente può cambiare la vita delle persone se preso nel modo giusto se sfruttato nel modo giusto ovviamente io non do consigli finanziari ragazzi non è che sto dicendo che dovete investire in questo mercato sto facendo dei paragoni statistici su quello che è sempre accaduto cioè questo è un mercato che ha letteralmente cambiato la vita a tante persone che sono riuscite a cavalcarlo e a gestirlo nel modo corretto noi stiamo facendo veramente di tutto per fare divulgazione per far sì che la gente possa investire in questo settore in modo consapevole e non finendo scammati o finendo in situazioni strane o presi dall'avidità eccetera eccetera quindi stiamo cercando di fare questo lavoro il motivo per cui esiste la deserve academy e oggi per dimostrarvi quello che sto dicendo voglio prendere voglio fare una simulazione ok facciamo una simulazione insieme e ragazzi ovviamente garanzia del futuro non c'è cioè non è che quello che vedremo ora vuol dire che si ripeterà uguale però io vi prendo quello che abbiamo fatto noi ok non vi vado a prendere cose degli altri abbiamo già visto no a livello statistico abbiamo già capito abbiamo già visto come funziona questo mercato ho fatto tantissimi video tantissime lezioni anche gratis qua su youtube dove vi spiego come funziona la rotazione di capitale del perché non è vero che bisogna comprare le coin post alving del perché non è vero che il 2023 non era l'anno perfetto per accumulare quando tutti vi dicevano che si andava 9000 ve l'ho detto molti hanno seguito per fortuna e hanno diciamo fatto nel modo corretto hanno usato questo mercato questo questo parco giochi se vogliamo perché a tutti gli effetti lo è nel modo corretto e altri invece si sono schiantati e sono rimasti fuori e poco male perché finché rimani fuori non ti fai male ma il problema è che quando entri poi in fomo rischi di farti male però ci sono ancora delle opportunità oggi facciamo un think in process insieme ok voglio prendere degli asset degli asset che abbiamo nei nei portafogli che abbiamo costruito insieme con la desert academy link sotto in descrizione se sei interessato a capire come funziona l'academy ma i wallet ragazzi sono chiusi ormai quindi non non mi vendo quello che non esiste i wallet non ci sono più però esiste chic coin d'oro che è un altro tipo di soluzione che abbiamo pensato ma verrà oggi sono qui per fare una simulazione quindi facciamola facciamola andiamo a prendere ragazzi questo bellissimo moltiplicatore calcolatore di profitto che è molto molto semplice lo andiamo a prendere in euro e vi faccio vedere quello che sarebbe potuto accadere o perlomeno quello che è successo anzi per chi ha investito ovviamente prendiamo delle cifre tonde facciamo cifre simboliche eccetera è tutta una simulazione però io prendo come capitale investito 6 mila dollari e vi faccio vedere quanti sarebbero diventati oggi con pochi asset pochi asset che abbiamo all'interno del nostro dei nostri wallet la più ovviamente comune perché questa l'avevo detta anche sul canale lex finance quando è arrivata questo prezzo 9 dollari che non è neanche il bottom perché siamo arrivati intorno agli 8 dollari è solana appunto che abbiamo acquistato con mettiamo una cifra appunto 1000 dollari presi a 9 dollari venduti oggi a 179 dollari ci avrebbe generato un profitto di quasi 20 mila dollari ragazzi solo con un asset capite l'importanza del timing del perché importante perché uno mi può anche dire no vabbè ma io l'ho comprata a 70 dollari sì sei sicuramente in profitto ma questa è la cifra questa è la cifra che stai generando adesso questa è la cifra che abbiamo generato noi ecco perché io non sto dicendo che non potete fare profitto voi potrete fare profitto ma se non seguite il tempo giusto sia di entrata ma soprattutto di uscita ragazzi vi fate male per questo io non capisco come sia possibile che ci sia ancora gente che sotto nei commenti negli hater degli hater dicano cose senza capire niente cioè non sapete quello di cui state parlando perché io ho fatto il 100 per io 50 per ho comprato la meme coin x sì va benissimo ma stai giocando alla lotteria è un altro discorso non è una strategia poi secondo asset che vi voglio di cui vi voglio far vedere injective ragazzi noi injective abbiamo il prezzo medio di acquisto 10 dollari ok altri 3.700 da portare a casa in questo momento poi scusate da andare a recuperare giusto per farvi vedere così perché poi dicono ah tu non fai vedere che cosa avete nel wallet adesso ve lo faccio vedere avevamo link stiamo parlando del wallet meno aggressivo eh ragazzi quello più tranquillo comprato a 7 dollari saremmo in questo momento sta intorno ai sì qua sono in euro quindi non sono 7 euro sarebbe stato tipo 6 euro punto 5 facciamo alti 3k più o meno ok andiamo ad arrotondare abbiamo fat ragazzi fat comprata a 0 70 più o meno altri 4k 3.700 ancora io arrotondo per difetto facciamo 3.500 ok poi abbiamo anche la chic coin avevamo pepe all'interno del wallet ragazzi eccola qui pepe ora oddio eh tutti gli zeri che ci sono vi dico abbiamo tirato fuori un per 5 ok perché troppi zeri da contare qua per scrivere il numero abbiamo tirato fuori fidatevi abbiamo tirato fuori il prezzo di acquisto era 0,00001414142 all'interno del nostro wallet ora sta a 7631 quindi un per 5 poi abbiamo un altro chic coin clamorosa golden finch golden finch ragazzi e poi finisco l'abbiamo presa a 0 5 ok quasi altri 6.000 altri 6k ok ora vi faccio vedere il giochino me lo sono segnato apposta per voi questo è per farvi capire sul portafoglio simulato per gioco di 6.000 euro ok abbiamo preso alcuni degli asset che abbiamo all'interno dei nostri wallet non sono sicuramente tutti anzi non ho preso neanche in considerazione per esempio i wallet IRWA che è considerato il wallet del futuro ma questo è per farvi capire quando io dico ragazzi questo è un mercato che è letteralmente in grado di cambiare la vita della gente facendo questi profitti 6.000 euro oggi sarebbero diventati 41.500 euro in considerate l'academy esiste da aprile quindi un anno ok il guadagno di un italiano medio che lavora che ha uno stipendio normale non credo che riesca a fare questo tipo di profitti è anche uno dei motivi per cui io dico che questo è uno dei mercati dove si può generare più cioè non esiste un mercato in certe fasi diciamo non esiste un business un lavoro in grado di compensare i profitti che si possono fare in questo mercato con qualsiasi altro lavoro cioè non c'è un lavoro in grado di farti fare gli stessi soldi ragazzi cioè non esiste ok il rapporto rischio rendimento è pazzesco rispetto anche la quantità di tempo va bene allora quindi lo abbiamo fatto lo stiamo facendo questa è un'idea ragazzi è una simulazione un gioco ok non sono consigli finanziari è un gioco che sto facendo ma è per farvi capire che quando parlate spesso non sapete quello di cui state parlando ok nasce golden chic coin ragazzi la tua ultima occasione per cavalcare bull market ok noi lo abbiamo fatto e continueremo a fare abbiamo chiuso i wallet perché la promessa è stata chiara quella di dire noi non siamo più in grado di proiettare i risultati che vogliamo proiettare a questi prezzi per le persone che entrano ora cioè chi si è perso 41 mila euro di profitto ok ora non possiamo prometterti che faremo gli stesse performance perché era il 2023 l'anno giusto per entrare ora però ci sono ancora delle chic coin clamorose che si possono cavalcare le chiamiamo chic coin d'oro sono tutti quei progetti quei protocolli che non sono ancora esplosi parliamo di love cap parliamo di alto rischio ma alto rendimento ragazzi ok il mercato delle cripto valute conta ormai più di diecimila token di cui il 98 per cento risulta essere inutile o peggio ancora una truffa individuare un protocollo ad elevato potenziale sta diventando sempre più difficile ormai tutti hanno un sito web ben curato un white paper e una roadmap con buoni propositi entrando in golden chic coin verrai guidato nella scoperta di token love cap ad alto potenziale in modo da poter beneficiare di performance sopra la media di mercato e quello che avete visto ragazzi è una performance direi anche media di mercato perché non ci siamo esposti con i token che avete visto sulle love cap giusto per farvi un'idea ragazzi proprio sabato abbiamo dato alcuni chic coin all'interno dell'academy che oggi ci hanno fatto praticamente già un per tre questo è il potenziale per tre vuol dire che se mettevate mille siamo usciti con tremila strategia d'entrata strategia d'uscita community tutto guidato ragazzi ok questo è quello che noi vi stiamo proponendo all'interno di golden chic coin verrai andremo periodicamente ad analizzare selezionare e studiare protocolli cripto concentrando la nostra attenzione su quelli che riteniamo offrono un prodotto ed una tecnologia di valore si tratta di studio ragazzi non di consigli finanziari andiamo a studiare dopo di che decidete voi community live approfondisci in diretta i protocolli selezionati scoprirai quali sono le metodologie che utilizziamo le caratteristiche da tenere in considerazione per selezionare i progetti di valore avrai materiale formativo accesso a tutto il materiale formativo per poter appunto studiare questi progetti e per poter sapere appunto quali potrebbero essere secondo noi secondo voi secondo i brainstorming che insieme anche in live potenzialmente delle chic coin d'oro è la tua ultima occasione ok è la tua ultima occasione perché poi quando tutti saranno in fomo noi chiuderemo esattamente come abbiamo chiuso i wallet quindi siccome noi siamo seri non siamo qua a vendere fuffa siamo qua a fare della roba seria ok e i profitti sono reali ragazzi perché questi sono profitti che cambiano la vita alla gente perché 50 mila euro in più sul colto spostano parecchio per alcuni ok fate voi ragazzi fate voi ovviamente a livello strategico verrai accompagnato fino alla fine del percorso se è una cosa che ti può interessare trovi il link sotto in descrizione ok ragazzi ci vediamo alla prossima puntata spero di avervi acceso un po una lampadina ciao